Sale, sale, sale questa musica animale che fa male e male Benji e Fede sono tornati. Cinque anni dopo la separazione, il duo è di nuovo insieme più maturo e consapevole. Li abbiamo incontrati alla DN Kronos per parlare del nuovo album Rewind, disponibile da oggi, del sold out del concerto del 16 novembre all'Unipol Forum di Assago, fino ad un possibile approdo al Festival di Sanremo. La separazione è arrivata in un momento in cui eravamo in un momento molto alto della nostra carriera a livello di risultati e di numeri, ma eravamo molto stressati, molto tesi, perché comunque arrivavamo da cinque anni molto intensi di tour e dischi e avevamo bisogno di staccarci e prendere una pausa da questo progetto per sperimentare anche noi stessi cosa significasse vivere e fare musica da soli. Adesso che siamo tornati insieme facciamo tesoro delle esperienze fatte da soli per poi dare un valore aggiunto a questo progetto. Come dicevi te, Caro Amico è la canzone che ha fatto nascere questo nuovo disco, perché è stata la prima che abbiamo partorito in studio a gennaio di quest'anno e quando siamo entrati in studio e abbiamo fatto Caro Amico ci siamo resi conto in quel momento che c'era ancora quella magia nel fare musica insieme, nel lavorare insieme. Rewind è un po' come tornare indietro per ricordarsi un po' da dove si è partiti, che è molto importante, per poi ripartire con tutto quell'insieme di cose che ci portiamo dentro e che al giorno d'oggi magari ci possano permettere di fare il percorso che non abbiamo mai fatto e che avremmo potuto fare. E l'appuntamento al forum segna il nuovo inizio. Penso che la data del forum sia un buon punto di partenza per ritornare a ripristinare con l'empatia e per far capire al pubblico che oggi siamo tornati, ma siamo anche persone diverse rispetto a loro. Abbiamo mantenuto in linea di massima il carattere nostro, però siamo cresciuti. E la nostra musica è cresciuta con noi, noi siamo sempre pop, però anche il disco avrà sonorità. Comunque è un po' più rock, un po' più funky, sarà molto più organico. Quindi insomma li porteremo verso questo nuovo viaggio che spero gli piaccia vivamente. Infine, uno sguardo sul futuro è la possibilità di calcare uno dei palchi più importanti della musica italiana, quello del Festival di Sanremo. Forse un giorno anche per noi potrebbe essere un palco giusto. Forse prima eravamo... Dici? Beh, così lo dico tanto per... Forse. Devi essere pronto, devi avere la canzone giusta, devi essere integro con te stesso. E forse questo è un buon anno, questi anni, insomma, che sia questo, il prossimo, il prossimo ancora, insomma. Sarebbe bello, saremmo pronti. Più di una canzone abbiamo, però... Chi lo sa. Siamo in fase di pensiero, no? Però l'idea ci stuzzica, dai. Spogliati di gaffi di un'età che è lontano ormai, ma anche adesso ogni mio...